Salve a tutti e benvenuti sul canale, la notizia delle ultime ore più importante che riguarda la nazionale è naturalmente l'esonero di Mancini, ma di questo ne parleremo in un altro video. Ho già delle mie idee, però voglio ascoltare un po' di più, vedere che cosa succederà, quindi parleremo in un altro video, parleremo nei prossimi giorni di questa cosa, sperando di poter venire un po' prima e fare questo video. Nel frattempo vi ricordo, proprio per essere aggiornati in tempo, di seguirmi e soprattutto, e magari di attivare anche la campanella, così vi arriverà la notifica del nuovo video. Nel frattempo invece voglio parlare di un argomento che già volevo parlare negli scorsi giorni, ma purtroppo non ho avuto molto tempo, che riguarda la nostra nazionale femminile, che è stata impegnata e purtroppo uscita dai mondiali qualche settimana fa, il primo turno dei mondiali, mondiali che stanno quasi rivolgendo al termine, vedremo come andranno. Io, tra l'altro, mi dispiace molto di come è uscita, perché avevamo vinto con l'Argentina, facendo anche una discreta partita, poi purtroppo con la Svezia è arrivata la scopola, lì praticamente si capisce che la Svezia nel movimento calcio femminile è di un altro livello, lo sapevamo, e purtroppo secondo me c'è stata una caduta psicologica anche che poi si è rifatta anche nella partita contro il Sudafrica, che purtroppo non siamo riusciti a gestire. Si è rimessa la CT, Milena Bertolini, che io voglio ringraziare. Tanti forse saranno contenti, probabilmente le scelte forse non sono state felici, non lo so, io onestamente non faccio il CT, non guardo quanto si dovrebbe, diciamo, però non faccio questo di lavoro, tutto quello che sta succedendo, quindi mi fido più delle sue scelte che di quelle che potrebbero essere le mie, ma voglio ringraziarla, voglio ringraziarla. Io ho iniziato a seguire anche la nazionale femminile, il calcio femminile con la sua nazionale, che ha fatto comunque un buon lavoro nel mondiale del 2019. Poi purtroppo gli ultimi risultati dell'ultimo europeo e dell'ultimo mondiale non sono stati granché, però devo dire che tutto sommato lei ha fatto, secondo me, molto bene e con lei anche il movimento calcio femminile è cresciuto molto e spero che cresca ancora di più, c'è bisogno, c'è molto bisogno, tra l'altro ho visto anche delle ottime, è vero, ci sono stati un po' di errori qua e là, però ho visto anche delle ottime giocate da parte delle nostre azzurre in questi anni. Vado con i nomi, Bonansea, Gama, che purtroppo non c'è all'ultimo mondiale, anche Piemonte non c'è, ma anche se Piemonte io sono un po' di parte da milanista e poi anche e soprattutto da fan del programma Little Big Italy. E poi, vabbè, poi vabbè anche altre giacinti, anche molto forti, ce ne sono state veramente tante, mi è piaciuta. Quindi io la ringrazio, grazie per il lavoro, grazie per le emozioni che ci hai dato, ho visto l'ultimo post, io lo trovo molto bello, certo è un po' polemico, però polemiche che ci possono stare e comunque mi piace molto perché sottolinea molto l'aspetto sociologico del calcio. Io mi sono avvicinato a questo sport anche perché c'è un bel richiamo alla sociologia, così, del calcio, che non è solamente uno sport, ma è proprio, tu li vedi come si comportano le persone, per questo secondo me come sport va oltre, cioè diciamo il calcio va oltre allo sport, anche se è un mio parere personale. Comunque, se non l'avete visto, guardatelo sul profilo, sui profili social di Milena Bertolini, l'ho visto su Instagram il suo discorso, molto bello, secondo me, molto interessante. Ditemi cosa ne pensate magari nei commenti giù, che leggerò. Grazie ancora a Milena e in bocca al lupo a chissà il nuovo CT, anche della nazionale, ma di quello ne parleremo in un altro video come ho detto prima, ma anche della nazionale femminile, sperando che il movimento, sperando che si porti avanti il lavoro che è stato fatto, che secondo me è stato un gran lavoro. Vedremo cosa succederà adesso nel finale del mondiale femminile e vedremo chi vincerà. E noi ci sentiremo presto parlando di Mancini, poi di altro e vediamo insomma. Ciao! Ciao!